I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Mazzara del Vallo hanno arrestato un uomo classe 92 per i reati di evasione e false dichiarazioni sulla propria identità. Nella circostanza lo stesso è stato deferito anche per guida senza patente e porto di armi od oggetti atti a offendere. I militari dell'arma, impegnati in un posto di blocco per le vie della città, hanno sottoposto a controllo il 28enne il quale si presentava alla guida dell'autovettura sprovvisto di patente e di documenti di identità. Approfonditi gli accertamenti, l'uomo ha dichiarato ai militari un nominativo che dall'interrogazione della banca dati non ha fornito riscontri. È stato poi appurato che lo stesso era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare nel comune di Vercelli e autorizzato a recarsi al tribunale di Marsala per vicende giudiziarie in merito a un altro procedimento penale a suo carico. Non essendoci però compatibilità tra l'orario in cui è stato fermato e l'udienza prevista per il quale lo stesso era autorizzato, è stato tratto in arresto dai carabinieri che lo hanno inoltre denunciato per guida senza patente perché revocata e per porto di armi atti a offendere in quanto, a seguito di una perquisizione personale veicolare, è stato rinvenuto nella portiera dell'auto un coltello a serramanico di genere vietato. A seguito della convalida dell'arresto, il 28enne è tornato a Vercelli dove è stato tradotto in carcere così come disposto dalla Corte di Appello di Torino.